carissimi pace buona giornata dio e benedica grazie a dio oggi è un nuovo giorno e lo vogliamo iniziare leggendo nelle sacre scritture in particolare nella seconda epistola di paolo e corinzi al capitolo 5 ci soffermeremo sul verso 20 è scritto noi dunque facciamo da ambasciatori per cristo come se dio esortasse per mezzo nostro vi supplichiamo nel nome di cristo siate riconciliati con dio compito principale di un ambasciatore o perlomeno uno dei più importanti è quello di rappresentare in una terra straniera il proprio re e di rappresentarne anche l'autorità e per noi cristiani affermare l'autorità di cristo significa innanzitutto obbedire da parte nostra alla sua autorità perché questo è modo più semplice per poter servire il nostro re e cioè testimoniando praticamente della sua autorità sulla nostra vita la fede infatti non è un modo di vivere di tipo teorico non è qualcosa che si limita quindi a una esperienza meramente religiosa formale la fede è innanzitutto piena obbedienza alla parola di dio e perciò non si può essere veri testimoni di cristo se prima non si è riconciliati con dio e questa riconciliazione non è frutto dell'opera di un uomo perché in quanto peccatore l'uomo è nemico di dio ma è frutto dell'opera di cristo perché soltanto per mezzo di lui è stata realizzata quella riconciliazione appunto tra l'uomo e il signore e questo perché egli tramite il suo sangue ha cancellato ogni peccato tramite la sua morte e la sua resurrezione ha squarciato la cortina che separava l'uomo da dio ha aperto la via che permette all'uomo di poter raggiungere il santuario della sua presenza gli ambasciatori di cristo quindi non parlano al proprio nome non agiscono di propria iniziativa ciò che comunicano non è la loro personale opinione ma semplicemente ciò che è stato loro ordinato di dire e nello stesso tempo parlano con l'autorità di colui che li ha mandati è necessario quindi che ogni ambasciatore di cristo viva l'evangelo con una con un potente rinnovamento nello spirito e che la sua fede non si esaurisca in una semplice esteriore manifestazione di devozione ma esprima in una maniera nuova incisiva l'autorità della parola vivendola nella svariata gamma dei suoi rapporti con l'umanità così da poter affermare non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me e naturalmente in tutto questo lo scopo è quello di permettere all'uomo di poter conoscere che c'è l'opportunità di potersi riconciliare con dio e di poter così di nuovo avere comunione col proprio creatore e questa mattina ognuno di noi possa avere innanzitutto la certezza di essere in comunione col signore di vivere nella parola di dio e di praticare la parola di dio e possa di conseguenza ognuno di noi avere il desiderio di annunziare questo messaggio a quanti ancora non lo conoscono perché se è vero che vi sono tante persone dure che sono recalcitanti e rifiutano il messaggio della parola di dio è altrettanto vero che ce ne sono ancora tante altre che sono alla ricerca della volontà sono alla ricerca di qualcuno che vada loro come ambasciatore di cristo per dirgli che c'è speranza al calvario speranza alla croce speranza nell'opera di cristo gesù e dieci aiuti ci aiuti a poter essere degli ambasciatori fedeli e ad assolvere a questo incarico che è veramente un incarico nobile del quale ci dobbiamo sentire privilegiati e in vista del quale dobbiamo essere preparati vivendo una vita che onora il nome del signore e che quindi è di per sé stessa una testimonianza della grazia di dio signore ci accompagna ancora oggi la sua pace la sua presenza possa essere in ognuno di noi dio ci benedica insieme